Buongiorno, siamo qui in diretta dal Gazzebo di Largo dei Lombardie, ti aspetto per sostenere la mia candidatura alle primarie per il Sindaco di Roma. Siamo qui dalle 10, la giornata sarà lunga fino alle 19, ti aspetto per sostenere la mia azione anche sul territorio di Roma per dare un cambiamento a questa città. Grazie.